Bene, vediamo di approfondire un attimo il discorso che riguarda l'interesse composto. Noi possiamo sfruttare i grandi vantaggi dell'interesse composto programmando sul lungo termine le nostre attività. Non è possibile sfruttare invece i grandi vantaggi dell'interesse composto programmando un'attività di breve termine. Ok? Mi spiego meglio. Spesso vediamo pubblicità e pubblicazioni che suggeriscono la falsa idea, una falsa idea basata su una crescita veloce. Ok? Come se fosse possibile utilizzare ogni giorno il grande valore dell'interesse composto per crescere. Ecco, questo non è possibile. È una falsa idea che poi viene venduta dai broker commerciali o comunque alle attività commerciali che esistono nel settore. La realtà è che l'interesse composto è una risorsa formidabile per poter crescere, ma possiamo sfruttarne i vantaggi solo programmando sul lungo termine una serie di attività. Anche attività semplici che però vengono messe in opera nel corso del tempo e lì emerge quel valore formidabile. Vediamo di capire come funziona tutto questo. Vi spiego una cosa che ho spiegato nella community pochi giorni fa in modo da farvi capire come noi possiamo sfruttare un buon trading anche semplice per poter crescere però parecchio nel corso del tempo con una programmazione di lungo termine. Questa programmazione che vi mostro prevede l'uso di un trading molto molto semplice. Opportunità di breve termine con il metodo cash e opportunità di medio termine con il metodo cash di azione e di azione. Sono due metodi molto semplici che basano tutto il trading su pochi eventi. Ok? Quindi pochi eventi selezionati accuratamente ma gestiti e messi in opera nel corso del tempo. Quindi per operare sfruttando la continuità come grande vantaggio piuttosto che un'attività intensiva. Ok? Allora, questa programmazione prevede, vedete in questo primo riquadro, una settimana tipo. Ok? Andiamo a pianificare quella che può essere la settimana tipo. La settimana ottimale che prevede per il momento un'opportunità di breve termine a settimana a 50 pip. Quindi nulla di difficile, nulla di intensivo, nulla di complicato. Spesso commento le opportunità di breve termine e se seguite le live che faccio di solito alle 16.30 vedete che un'opportunità di questo tipo al mese è assolutamente possibile. Ok? Utilizziamo per questo esempio un capitale di 250.000 euro. Anche per collegare tutto questo discorso alle attività che stiamo svolgendo con le società di prop trading. Ok? Quindi per vedere questa cosa in prospettiva sia per l'uso di un capitale nostro, sia per fare tutto eventualmente con un capitale esterno. Va bene? Con una leva a 1 a 30 ci serve un margine di 35.000? Ok. Utilizzando 10 lotti. Utilizzando 10 lotti, quindi con questo capitale, abbiamo con uno stop di 25 pip un rischio di 2.500 dollari. Rischio massimo, rischio effettivo e pari a 10 pip perché queste opportunità prevedono uno stop a 10 pip se il mercato sviluppa prese di profitto contro noi. Cioè noi concediamo al massimo 10 pip nel nostro stop al mercato per oscillare. Se li bastano, bene, altrimenti chiudiamo. Molto semplice. Il primo obiettivo a 50 pip di breve termine vale 5.000 dollari. Il secondo obiettivo di breve termine a 100 pip vale 10.000. L'obiettivo a medio termine di 150 vale 15.000. Ok. Iniziamo a valutare il tutto utilizzando due opportunità al mese di breve termine. Due opportunità al mese di breve termine. Un'opportunità in una settimana. Un'altra opportunità nella settimana successiva. O comunque un'altra settimana nel corso del mese. Considerando che ogni mese ha 3-4 settimane. Ok. Quindi una programmazione che prevede pochi eventi. E per giunta anche molto semplici. Cioè questo non è una grande strategia di trading. È una strategia di trading semplice. Ma l'obiettivo di questo esempio è mostrarvi come un'attività semplice può dare grande valore perché appunto questo valore emerge dall'uso corretto dell'interesse composto. Va bene? E quindi vediamo una settimana di trading ottimale con un'opportunità di breve termine pienamente in profitto. E andiamo poi qui a programmare questa cosa sul lungo termine per poter capire come questa attività può essere poi capitalizzata nel tempo per comprendere il grande valore dell'interesse composto ma nel tempo, non su un arco di tempo limitato, ma su 12 mesi. Su 10 mesi chiedo scusa. 10 mesi dove prevediamo due settimane in profitto al mese. Quindi una settimana in profitto con una opportunità di breve termine. Un'altra settimana nel mese con un'altra opportunità di breve termine. Punto. Nulla di più. Abbiamo quindi nel corso dell'anno 20 opportunità di breve termine a 50 pip che producono il loro risultato. Ho previsto anche in questa programmazione spese per 10 opportunità infruttuose che vengono chiuse a 10 pip. Sono anche tante, però è giusto inserirle. Vediamo che con una strategia di trading semplice, messa in opera con pochi eventi, possiamo capitalizzare nel tempo un grande valore. Il valore non deriva dalla strategia perché è molto semplice, ma deriva dal grande valore che costituisce appunto l'interesse composto. E vediamo che è possibile produrre sulla carta con questi 20 eventi effettivamente una cifra di 100.000 dollari che al netto poi delle spese vale il 36% del capitale. È un'ottima percentuale. Non esiste fondo che vi dà con un 4% di spese un 36% di profitto. Andiamo quindi a vedere come questo profitto può essere poi capitalizzato utilizzando anche dei capitali esterni. Cioè noi i 250.000 ce li abbiamo o non ce li abbiamo, possiamo valutare l'uso di un capitale esterno con un piccolo investimento in termini economici ed in termini di lavoro. Perché dobbiamo replicare ciò che facciamo sul nostro conto sul capitale esterno, non dobbiamo inventarci nulla di più. Sono sempre queste due opportunità al mese che andiamo a gestire. Quindi tutto sommato poco lavoro, ma come dico sempre il vantaggio dell'attività di training è che possiamo far lavorare il capitale per noi. Cioè non siamo noi che dobbiamo lavorare di più. Al limite lavoriamo di più in fase di pianificazione, di ricerca, ma poi una volta studiati gli eventi e ricercata bene l'attività, cioè pianificata in ogni dettaglio correttamente, a quel punto si deve lavorare per mettere al lavoro il capitale e in questo modo si moltiplicano i profitti. Cioè sfruttiamo il capitale e il grande valore dell'interesse composto. E' così che escono i profitti all'attività di training. O almeno è il modo che io conosco, insomma. E qui vediamo che con questa programmazione al netto delle spese, questo è il profitto che può uscire con un capitale nostro. Questo è il profitto che può uscire con questo partner che mette a disposizione il capitale del 250.000 e consente al trader di guadagnare il 75% dei profitti. Significa guadagnare questa cifra. Con DarwinX che dà invece il 15% si può guadagnare questa cifra. Con FTMO l'80% questa cifra. Con DarwinX poi abbiamo la possibilità di far crescere questo trading ricevendo un'assegnazione di capitale anche di diversi milioni e capite che poi è possibile valorizzare questo 15% anche con cifre molto importanti. Io ci sto lavorando con questi partner e commento la mia esperienza recente con loro in modo da arrivare a poter pubblicare appunto dei payout di questo tipo. Con il mio capitale è una cosa che ho sempre fatto. Con il capitale esterno è una cosa che sto imparando a fare ma vedo che sono partner molto affidabili. I commenti sono molto buoni quindi sono portato a pensare che sia assolutamente possibile fare tutto questo con loro così come ho sempre fatto con il mio capitale. Allora, quindi sulla carta capiamo che il valore della continuità come dire può essere capitalizzato in modo esponenziale utilizzando sia un capitale nostro sia un capitale esterno. Utilizzando per giunta una strategia di trading davvero semplice che prevede anche pochi eventi. Allora, questo per dire una cosa, poi andiamo avanti vi spiego un'altra cosa che diciamo l'attività di trading come dire si deve basare su pochi eventi che conosciamo bene ci impegniamo a conoscere quegli eventi e ci impegniamo a capitalizzarli nel tempo. Non dobbiamo mai dare valore all'esito del singolo evento piuttosto dobbiamo dare valore all'esito di un'intera gestione. Il valore di un'intera gestione quindi emerge mettendo in opera la gestione nel corso del tempo quindi 10, 12 mesi, 2 anni, 3 anni e così via. Più tempo abbiamo alle nostre spalle più il trading che mettiamo in opera diventa affidabile e saremo poi in grado di produrre di più con meno spese. Ok? E come vi sto spiegando è possibile poi capitalizzare con queste soluzioni moderne anche il tutto con dei capitali esterni semplicemente replicando la nostra gestione. Ma arriviamo diciamo a un secondo step perché noi possiamo potenziare questa gestione è una gestione molto semplice due opportunità di breve termine al mese ma possiamo aggiungere anche un'opportunità di medio termine in una settimana tipo quindi in una settimana tipo diciamo la settimana ottimale mettiamo un'opportunità di breve termine e una di medio. Io qui ho calcolato non una settimana di questo tipo tutte le volte perché le opportunità a 150 pip non capitano tutte le volte mentre quelle di breve termine sono molto più frequenti quelle di medio termine sono più rare quindi ne ho calcolate 5 all'anno davvero poche magari ne arriverà qualcuna anche in più. Quindi considerando il valore di una gestione continuata ai 10 mesi con due settimane in profitto al mese quindi 20 opportunità all'anno di breve termine e 5 invece di medio termine vediamo che possiamo arrivare a una percentuale che sembra impensabile. ma vedete questa percentuale emerge di conseguenza non grazie all'applicazione di una grande strategia di serie perché questi eventi fanno parte di due strategie molto molto semplici. il valore emerge proprio dall'interesse composto dal valore che viene offerto dall'interesse composto e l'interesse composto cioè un'attività continuata che dà grande valore piuttosto che quello che possiamo fare con una grande strategia una singola volta. quindi quello che ho spiegato nella community spiego anche a voi impegnatevi a studiare i vostri mercati di riferimento poi impegnatevi a studiare degli eventi semplici sul quale potete basare la vostra attività di trading dove potete produrre non qualcosa di eccezionale una singola volta ma potete produrre anche un piccolo evento come in questo caso un evento da 50 pip e lavorate per replicarlo nel tempo per sfruttare il vantaggio dell'interesse composto scoprirete che è possibile capitalizzare tutto questo in un modo veramente eccezionale così come vi sto mostrando in questa pianificazione. Questa pianificazione poi è quello che io sto ho sempre fatto sul mio conto personale ed è quello che sto adesso facendo anche con le società esterne da poche settimane quindi sto pubblicando talvolta i risultati e quindi poi scoprirete insieme a me quello che poi effettivamente si potrà fare con questa società ma sono portato a pensare che ciò che ho pianificato ecco come dire sarà possibile perché vedo che tutto quello che è stato fatto fino adesso è andato a buon fine nel modo corretto insomma sono società affidabili e naturalmente se poi non sarà così così come ho commentato le prime esperienze commenterò anche gli eventuali risvolti negativi ma da quello che vedo secondo me si potrà fare tutto questo sia con un capitale nostro come ho sempre fatto sia con queste società esterne per come dire accedere più velocemente a un capitale di questo tipo e metterci al lavoro tutti quanti per sfruttare il grande vantaggio appunto di un'attività continuata quindi la continuità appunto ci dà accesso a quello che è il valore dell'interesse composto spero di essere stato chiaro poi se avete bisogno mi iscrivete insomma ecco e niente poi avremo modo di approfondire ancora buon lavoro e a presto grazie a tutti